attività è arrivato un importantissimo aggiornamento riunioni in teams novità sull'alzata di mano e anche sulle modalità relatore forms sono arrivate per tutti finalmente le nuove raccolte benvenuti a questa nuova puntata del tg office 365 l'ultima di quest'anno 2021 oggi come avete sentito parliamo di novità molto molto importanti soprattutto in questo periodo in cui purtroppo si è ricominciato a fare dad per le tante quarantene delle classi la prima novità è quella che riguarda come avete sentito nel sommario le attività per parlare di questo importantissimo aggiornamento ho bisogno di un inviato un inviato speciale e quindi chiamo luca di fino e così lo salutiamo per quest'ultima puntata e lui ci farà compagnia ci illustrerà come sempre tutte queste novità ciao luca ciao chiara e ben trovati tutti quanti a questa nuova puntata del tg di office 365 partiamo subito con queste novità delle attività di teams quindi andiamo subito a condividere il mio schermo e siamo in un'attività come l'abbiamo sempre utilizzata quindi per assegnare dei compiti ai nostri studenti quali sono le novità le novità sono che quando adesso andiamo ad allegare un nuovo documento possiamo andare ad allegare una registrazione video quindi parte una interfaccia che è simile a quella che abbiamo visto se qualcuno l'ha utilizzato in in stream nell'applicazione stream possiamo registrare un video di fino a cinque minuti quindi per dare per esempio delle istruzioni ai nostri studenti quindi questa è la prima novità al nello stesso modo anche gli studenti troveranno la stessa voce nel restituire l'attività quindi anche gli studenti potranno allegare una registrazione video in risposta ad un'attività proposta dal docente la seconda novità la vedete immediatamente sotto è possibile allegare a un'attività che proponiamo sempre i nostri studenti una whiteboard quindi posso creare una nuova lavagna e assegnarla come attività quindi come tavolozza di partenza per un'attività e quindi i nostri studenti e nostre studentesse dovranno semplicemente compilare scrivere e completare quella lavagna e quindi usiamo anche la whiteboard come fosse un documento di word o di powerpoint come abbiamo sempre fatto con altri tipi di documenti fino ad adesso la l'ultima novità quindi oltre a registrazione video e whiteboard quindi che troviamo nella voce nuovo troviamo le una voce in più qui che sono le app cioè è possibile integrare all'interno delle attività anche applicazioni di terze parti come per esempio flat for education che è quella applicazione per la musica oppure flip che è l'altra applicazione di microsoft per interagire con le classi ma anche way lette molto famosa oppure altre applicazioni insomma che potete andare ad esplorare quindi queste sono le interessanti novità quindi per arricchire ancora di più l'esperienza che abbiamo di interazione quindi con i nostri studenti e nostre studentesse con applicazioni sia di microsoft e quindi una registrazione video o la whiteboard sia di terze parti quindi anche di altri di altri sviluppatori quindi per questo per questa notizia è tutto di nuovo a te la linea chiara grazie luca questa questa novità questi aggiornamenti delle attività davvero ritengo che siano utilissime utilissime e soprattutto la whiteboard sai che sono un'appassionata di questa applicazione utilizzata all'interno di teams non solo in dad ma anche nella didattica in presenza e la possibilità di allegare una lavagna che magari si è iniziata in classe farla terminare a casa come compito online la ritengo una pratica molto utile ed efficace passiamo adesso a le novità che riguardano le riunioni e le novità sono due iniziamo dalla dalla prima che riguarda l'alzata di mano e poi luca ci parlerà di quello che riguarda la modalità relatore come vi anticipavo nel sommario adesso abbiamo la possibilità di vedere di controllare l'ordine di alzata di mano dei nostri partecipanti facciamo una prova in diretta per cui io posso ad andare ad alzare la mano anche se sono relatore organizzatore allo stesso modo anche luca potrà alzare la mano e quando vado a visualizzare l'elenco dei partecipanti vedete accanto alla la manina c'è anche il numero progressivo quindi questo è un ulteriore controllo che ci aiuta nel dare il giusto la parola con il giusto ordine anche quando sia in tanti soprattutto nei collegi o quando ci sono tanti interventi è molto utile l'ho sperimentato in prima persona per la prossima novità che riguarda le riunioni che la modalità relatore invece ripasso la parola a te luca prego grazie chiara andiamo a vedere subito questa interessante novità della modalità relatore durante la condivisione di un contenuto durante una riunione di teams se apriamo il menu di condivisione possiamo osservare che sopra alle opzioni di condivisione quindi lo schermo una finestra una whiteboard o un powerpoint abbiamo delle diverse abbiamo questi tre opzioni in più che definiscono appunto la modalità relatore quindi potete scegliere la modalità relatore prima della condivisione oppure se andiamo a condividere semplicemente lo schermo come siamo abituati normalmente vedete che nella barra in alto quella che appare quando andiamo con il mouse nel bordo superiore dello schermo possiamo vedere che è attivabile anche in un secondo tempo in particolare cosa possiamo attivare attiviamo per esempio questa prima modalità l'unica l'unica cosa a cui dobbiamo stare attenti è che questa modalità di condivisione adesso ve la faccio vedere grande quindi in particolare in questo caso vedete io ho il mio sfondo e la mia figura quindi ritagliata dallo sfondo è sopra proprio il contenuto che sto presentando in questo caso stavo presentando il mio schermo con il calendario di di teams e io sono sopra il il mio contenuto dicevo qual è l'unica cosa a cui bisogna stare attenti è il fatto che questa presentazione verrà vista da chi sta seguendo la riunione ma non verrà registrata quindi non non immaginate che potete fare con questo diciamo delle delle dei montaggi video particolari perché questa modalità non viene registrata infatti io sto facendo un pochino di salti mortali per potervela far vedere qui dicevo per cambiare modalità possiamo andare quindi nella barra in alto e scegliere o questa opzione questa seconda opzione o questa terza opzione quindi con lo schermo con il contenuto non coperto dalla mia immagine ma la mia immagine semplicemente affiancata oppure ha sempre dallo stesso minuto tornare alla presentazione normale con solo il contenuto questa modalità è possibile attivarla anche con la presentazione di un powerpoint ve lo faccio vedere velocemente quindi io prendo un powerpoint qualunque quindi vado a prendere un powerpoint e vedete che in alto si attiva modalità relatore quindi fatemi attivare potete mettere una presentazione una pagina un pochino più carina quindi in questo modo io sto condividendo il powerpoint normalmente ma posso attivare sopra vedete la modalità relatore quindi in questo caso i miei e chi sta seguendo la la riunione quindi i miei studenti vedranno la presentazione in questo modo cioè vedranno il contenuto della diapositiva e la mia immagine in basso quindi queste sono le due possibilità della modalità relatore quindi con più opzioni se condividete lo schermo con questa singola opzione se state condividendo un powerpoint per questo è tutto di nuovo a te la linea chiara grazie luca anche per questa importante spiegazione e per questa novità incredibile delle modalità relatore che rendono più interattive più accattivanti anche le nostre presentazioni in diretta l'ultima notizia riguarda invece forms e vi avevo anticipato che le nuove raccolte sono finalmente state distribuite a tutti i tenant quindi quindi anche nel vostro istituto sicuramente troverete questo aggiornamento adesso condivido lo schermo per farvi vedere dove si trova questa novità ecco come come vedete se io vado all'interno dell'applicazione forms del mio tenant e devo andare attenzione devo andare in tutti i miei moduli è una novità che trovo quando entro nei miei moduli in questo caso vedete che si è aggiunto questo tab nuova raccolta questa nuova raccolta la posso per esempio nel mio caso può essere inutile fare una raccolta di tutte le verifiche che ho creato in forms e posso trascinare comodamente tutti i test tutti i moduli che io ho creato di verifica come vedete mi crea una piccola raccolta di tutte con tutti gli elementi che riguardano l'argomento di del titolo bene luca e c'è un altro servizio importantissimo per noi amministratori animatori digitali docenti e tutte le scuole che non hanno luca di fino a cui chiedere è un servizio di office 365 che è chiamato in tune for education che consente dell'amministratori di gestire facilmente anche da remoto i pc scolastici immaginate adesso quanti pc abbiamo a scuola con tutti gli acquisti che abbiamo fatto che stiamo per fare con i pon e i bandi e che ci ha messo a disposizione il ministero ecco con questo servizio possiamo facilitare molto questa gestione vero luca si intune un servizio centralizzato di gestione delle risorse quindi sia dei dispositivi ma anche semplifica la modalità di inserimento degli utenti e la modalità di creazione dei classi di team eccetera e la gestione centralizzata dei dispositivi cioè possiamo installare applicazioni resettare dispositivi controllare senza dover avere sotto mano i dispositivi controllare tutti i dispositivi della scuola che siano computer che siano anche tablet android ipad c'è anche di altre non solo strumenti con windows strumenti microsoft quindi veramente veramente è una spesa nel senso che è un servizio a pagamento di maio forma che aiuta molto il lavoro degli amministratori della piattaforma e credo che ne parleremo ancora vero luca di questo servizio perché davvero davvero essenziale in questo periodo altrimenti noi che ci troviamo poi ad amministrare tutti i dispositivi di un istituto intero ci troviamo davvero in difficoltà questo servizio che tutte le scuole dovrebbero conoscere quindi ve ne parleremo in modo più approfondito sicuramente anche nella prossima puntata o in altre occasioni mi auguro che vi sia piaciuto anche questo ultimo tg del 2021 e l'ultima puntata come vi ho anticipato e che si chiude però in un modo un po diverso dal solito e vi auguriamo il buon natale in un modo inaspettato da roma per quest'anno è tutto buon natale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti